musica art è un'associazione culturale che è riuscita negli anni a diversificare i propri interessi nei campi dell'arte del sapere e nella valorizzazione tutela dei diritti umani per molti individui affetti d'autismo il mondo può presentare delle sfide uniche l'autismo in quanto disturbo dello spettro può colpire l'individuo in svariati modi influenzando la loro capacità di interazione sociale di apprendimento di comprensione nonostante la crescente consapevolezza esistono ancora notevoli lacune nella comprensione da parte dell'opinione pubblica lacune che possono portare le persone con autismo ad avere problemi di inclusioni sociali e di pari opportunità molte persone affette d'autismo hanno una spiccata sensibilità e l'arte rappresenta per loro un rifugio un luogo dove il loro caos sensoriale si trasforma in creazioni straordinarie utilizzando una matita piuttosto che un pennello piuttosto che uno strumento musicale riescono a tradurre ad esprimere ciò che a parole molte volte è difficile a catturare nel progetto ADAPT esploreremo la connessione tra l'autismo e l'arte immergendoci nella profondità dell'espressione umana e della diversità racconteremo le storie e le esperienze di molti giovani affetti d'autismo in Italia in Estonia in Bulgaria coinvolte in attività artistiche dimostrando quanto sia forte il potere terapeutico dell'arte Tere! Meie oleme Amanita Töökeskus. Meie tegevus suunaks on sotsiaalne ettevõtlus. Püüame lahendada ühiskonna kitsas kohti, milleks on erivajadustega inimeste tööle saamine, vastutustundlik ja keskkonnasäästlik ettevõtlus ning ühiskonna ellu kaasatus. Töötamise ja igapäeva elu toetavate tegevuste kaudu on meie töökeskuses erivajadustega inimesed ühiskonda kaasatud. Terapeutilise suunaga töötamine annab puudega inimesele võimaluse enesede ostamiseks ja olla ise seisva. Igapäeva elu toetavad tegevused võimaldavad saatja ja korraldatud abitoel õppida uusi oskusi, läbida koolitusi, külastada üritusi, käia konsertitel teatris, muusiumis, aga ka kodust kaugemal erkkürsioonidel. Un diálogo silenzioso, dove autismo e arte si intrečan in un abracho empatico, che arrikishe la consapevolezza e la bellezza della diversita umana. Здravajte, mulle ima Ivelina Dimitrova i azi представляvam sporten klub BGA i sport za всичki. Niesme specializiran sporten klub od Bvlgaria, koji se занимava sa deca s aautizam i SOP. Søşto takaj provеждame различni sportni занимania za tezi deca s priobštavašt характер. Edna i od trinirovkite, koji to pravim, sá svõrzani s pluvane i различni sportni aktivnosti või vodata. Søşto takaj provеждame sportni lageri, както на морето, така и на планина, kõde to включvame различni sportove, kato basketbol ili podvijni igri. Osven tava, v zavata, koja to je v comenta se namirame, provеждame kondicionni trinirovki i zanimania po tradicionni bvlgarski tanci, така наречenita народni tanci. Щe se raznamе много da robotim zaedno. Nies v omenta работim po Programa Razum, v различni projekti, svõrzani s hore v naravnostoyno положение i s uvrždania. Il projekto, in linea con le principali priorita del programma Erasmus+, mira alla promozione dei valori europei, all'inclusione sociale, all'empowerment dei giovani autistici e allo scambio culturale. Salve a tutti, sono Raffaella Vitiello, la presidente dell'Associazione Gli Amici di PUC, che si trova a Del Colamo, in provincia di Napoli. E lui e Pierpaolo, uno dei ragazzi autistici che frequenta la nostra associazione. All'interno del nostro centro, ne facciamo percorsi di autonomia basati sull'analisi applicata. Facciamo questo attraverso laboratori artistici e laboratori musicali. Ad esempio, queste sono le cose che i ragazzi, nel corso degli anni, hanno prodotto. E questi sono gli strumenti che alcuni dei ragazzi sanno suonare. Facciamo questo per rendere sempre più autonomi e più indipendenti i ragazzi, soprattutto quando diventano adulti. Adapto, ti aspettiamo! In questo modo, non solo daremo voce ai partecipanti, ma educheremo gli spettatori alle diverse abilità e talenti dei giovani autistici. Grazie. Grazie. Grazie.